Tudor Norflag, l'orologio che combina tradizione e modernità. Se sei alla ricerca di un orologio che sia al tempo stesso classico e innovativo, il Norflag è il modello che fa per te. Questo orologio è una creazione di Tudor, una marca svizzera che ha una lunga storia di eccellenza e qualità nell'orologeria. Il suo nome richiama le spedizioni polari che hanno segnato la storia dell'umanità, e in particolare quelle che hanno coinvolto gli orologi Tudor. Nel 1952, una spedizione britannica guidata da James Clark Ross raggiunse il polo nord magnetico, portando con sé degli orologi Tudor o Easter Prince, che resistettero alle condizioni estreme e dimostrarono la loro affidabilità. Nel 1968, una spedizione francese guidata da Paul Emile Victor esplorò la Groenlandia, utilizzando degli orologi Tudor Prince o Easter Date, che si adattarono perfettamente al clima rigido e alla luce variabile. Questo orologio è stato lanciato nel 2015. Il Norflag è un orologio che si distingue per il suo design audace e funzionale. La cassa solida è spesso realizzata in acciaio inossidabile. Gli indici luminosi e le lancette prominenti assicurano una leggibilità impeccabile in qualsiasi situazione. Il quadrante è disponibile solamente di colore nero, con dettagli colorati di giallo che richiamano il tema dell'esplorazione. Il giallo si nota nell'indicatore della riserva di carica, nella lancetta dei secondi e negli indicatori delle ore posti sul reò dell'orologio. Il quadrante ha anche una finestrella per la data situata a ore 3 e un indicatore di riserva di carica, situato a ore 9. Il Norflag offre una varietà di opzioni di cinturino, tra cui l'acciaio inossidabile, la pelle, il tessuto e il caucciù. Il cinturino in tessuto è realizzato con una tecnica speciale, che lo rende resistente e confortevole. Il cinturino in caucciù ha una trama che ricorda il profilo degli pneumatici, conferendo un aspetto sportivo e dinamico. Il Norflag è dotato di un movimento meccanico a carica automatica, il calibro Tudor MT5621, che è il primo movimento interamente prodotto da Tudor. Il movimento ha una frequenza di 28.800 alternanze all'ora, una riserva di carica di circa 70 ore e una precisione di più o meno 2 secondi al giorno. Il movimento è certificato dal COSC, Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, un'organizzazione indipendente che verifica la qualità e l'affidabilità dei movimenti orologeri. Il Norflag ha una cassa in acciaio inossidabile, con un diametro di 40 mm. La cassa ha una forma tondeggiante, con delle anse curve che si adattano al polso. La cassa ha una corona a vite, con il logo Tudor inciso, che garantisce una resistenza all'acqua fino a 100 metri di profondità. Il Norflag è un orologio che rappresenta il meglio dell'orologeria svizzera, con il suo design distintivo, le sue caratteristiche tecniche all'avanguardia e il suo fascino senza tempo.